Allacciate le cinture. 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 da solo. Dentro il bunker. Ok, mi muovo. Ok, bersaglio marcato. E' una zona militare. Il passo è proibito. E' una zona militare. Il passo è proibito. E' una zona militare. Il passo è proibito. Lei, vedo un soldato. Laggiù, nel bunker. Il passo è proibito. Il passo è proibito. Il passo è proibito. E' morto. Vedo un soldato dell'Unidad. Dentro il bunker. Vedo un soldato. E' una zona militare. Il passo è proibito. Il passo è proibito. Vado in posizione. Occhi sul bersaglio. E' una zona militare. Il passo è proibito. E' una zona militare. Il passo è proibito. Civili nell'area. Occhio ai bersagli. E' una zona militare. Il passo è proibito. E' una zona militare. Il passo è proibito. Il passo è proibito. Grazie a tutti A volte non posso dormire Abbiamo l'indirizzo di una stazione di rete del cartello, andiamo Fa che Katari ha una bella faccia tosta, devo metterlo, gli dai un dito e si prende il braccio Se può portarci da Yuri e Polito ne vale la pena, facciamolo Vedo un secondo passaggio Mi serve una posizione migliore Pronto ad andare Grazie a tutti 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 Pronto ad andare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un attimo, guido io. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Vi saluto compadre. Tutta la Bolivia ha sentito il mio discorso. È solo questione di tempo prima che il popolo si unisca alla nostra causa. Viva la revoluzione! È un piacere aiutarvi. Ora cosa ci dite su Yuri e Polito? Non ancora temo. Quei due coprono bene le loro tracce. Ma i miei ci stanno lavorando. Presto sapremo qualcosa. Nel frattempo i miei fratelli rivoluzionari a Itacoa sono pronti ad aiutarvi se serve. Chiamate e verranno. Lo terrò presente. Oh padre, forse ho qualcuno che può informarvi su Yuri e Polito. Ti ascolto. Uno dei miei tenenti è riuscito a sfuggirli. Ha scappato in un villaggio chiamato Culta. Invece di dare il mio uomo al cartello, gli abitanti l'hanno nascosto. Un vero atto di coraggio. In risposta, il Santa Blanca ha raso al suolo tutte le case e ha giustiziato gli abitanti. Merda. Tengono ancora in vita il mio tenente. Probabilmente per ucciderlo in modo ancora più doloroso. Capito? Stiamo andando a Culta. Un'altra. 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 Sì. Quesso ci si si è riuscito. Un'altra. 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 abbiamo finito tutto ok andiamo